La più importante decisione che mai prenderete sarà decidere se vivere in un universo amico oppure in un universo nemico. È una citazione di Albert Einstein che racchiude appieno il pensiero di Letizia Espanoli, formatrice con esperienza trentennale di lavoro nell'area socio-sanitaria, che oggi ha condotto due workshop al centro Alzheimer Margherita. Il primo è in mattinata, dove ha approfondito il tema della persona con demenza e la comunicazione con essa, mentre nel secondo, tenutosi nel pomeriggio, di comportamenti speciali in persone speciali. Gli incontri patrocinati dal comune di Fano sono stati organizzati da Deborah De Angelis, assistente sociale e coordinatrice della Casa per Anziani Famiglia Nova. Diciamo che l'idea forte che sta dietro a questi workshop è proprio questo slogan, demente, no sentemente. Troppo spesso, quando noi parliamo della malattia e della demenza o dell'Alzheimer, pensiamo a tutto quello che queste persone non sono più. Quindi dipingiamo la malattia di Alzheimer come il lungo addio, questa drammaticità che c'è dietro, questa idea che loro perdano tutto. La cosa più preziosa che contraddistingue l'essere umano, che è proprio la sua capacità di sentire, dentro a queste persone rimane inalterata. Letizia è poi intervenuta sui disturbi del comportamento, o meglio, sui comportamenti speciali, come lei ama definirli. Quando dico disturbo del comportamento mi farebbe dire, ma disturba chi? Allora, forse, questi comportamenti speciali potrebbero essere una forma di linguaggio? Potrebbero essere il modo che queste persone hanno di entrare in relazione con noi e da qui capire cosa sono e come interagire con questi disturbi. Comportamenti speciali.